oh amici allora come va mi scuso per l'assenza ma purtroppo sono incappato nella bestia del colite che ma portato lontano da social tanto non voglia la crea di sono malato sono quarantena cazzo viene frega la gente e niente che siamo qua e a breve ci danno il video sarà la collaborazione con tomas piecini come avevo detto qualche mese fa ci siamo risentiti e praticamente usare contenuti tra un miniserie con lui più altri blog diciamo mia così personali se tutto va bene c'è la novità essendo giuventino l'altro giorno sono iscritto al fan club di massa quindi andrò a vedere partite allo stadium speriamo bene e quindi sarà anche diciamo dei blog ora non tutta la partita perché sarà sfa due ognuno sì però ci saranno anche dei blocchettino del viaggio col pullman tutte quelle cose lì poi dei nuovi contenuti anche a livello smart roba così sono ripristinato se mi regge mi sanzo un galaxy s3 del 2012 vorrei provare a fare un video con quello lì con e senza stabilizzatore vediamo cosa mi viene fuori per dire se ci va diciamo di vecchia generazione se sempre vai di per fare video poi qualche video quello che vi viene comunque diciamo questo autunno inverno la cosa principale questa miniserie con thomas che ripercorreremo un po i fastidi i cine panettoni anni 80 90 quelli di schierate di poco la base è quella lì poi ci viene meno qualcosa di più più lavorato o cazzatone si fa e non è che ci sia un protocollo e niente questo è tutto mi raccomando amici iscrivetevi martellate mi piace se vi va per rimanere sempre aggiornate attivate la campanellina niente ci vediamo il prossimo video ciao